Ben che separati sono stati per anni una famiglia modello, lui insegnante di religione, aggredito e colpito con 80 coltellate la moglie, una nota psicologa, poi l'ha fatta finita gettandosi dal quarto piano, nonostante le ferite la donna è viva e si salverà i due figli in casa durante l'aggressione, non si sono accorti di nulla. Ha incassato 131.000 euro l'asta di beneficenza promossa dal cardinale Crescenzio Sepe e destinata a finanziare un progetto dell'ospedale pediatrico Santo Bono per il telecontrollo a distanza dei bambini in coma o ammalati cronici, in totale sono stati battuti 21 pezzi, venduto per 5.500 euro il poncio di Papa Bergoglio. Dall'inchiesta sulle consulenze sospette spuntano telefonate di Sommaso Sodano, nelle quali annuncia l'allontanamento della staffista compagna di Riccardo Re Alfonso, poco dopo la cacciata dell'assessore al bilancio, il vice sindaco al telefono, mo facciamo l'operazione madre con il suo uomo e poi facciamo tutto a catena, ma per i magistrati non c'è ipotesi di reato. Calcio Napoli in colore senza mordente, racimola appena un pari nella trasferta a Cagliari, mentre le dirette concorrenti volano nella parte alta della classifica. Il tecnico Benitez, il campionato è una maratona, nulla è ancora scritto, mercato, manca solo l'annuncio per Antonelli, trattativa quasi chiusa per Agger. Buon pomeriggio, ben ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione targata 8 News. Allora, torniamo ad Aversa, dove ieri si è consumata una bruttissima tragedia, un uomo, tra l'altro un insospettabile, un insegnante di religione separato dalla moglie, eppure i rapporti sembravano, così raccontano, abbastanza pacifici, va a casa a prelevare i suoi figli, poi aggredisce la donna, la colpisce con 80 coltellate e quindi la fa finita lanciandosi nel vuoto dal quarto piano, per lui non c'è stato scampo, la donna invece, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita. Ricostruiamo questa tragedia nel servizio di apertura di Nunzia Marciano. 80 coltellate, forse 100, un numero impressionante di fendenti per togliere la vita a sua moglie, miracolosamente scampata alla morte. È infatti fuori pericolo di vita Paola Guglielmi, la psicologa di 36 anni, accoltellata nella sua casa di Aversa dal marito Paolo Prisco, 39, che si è poi suicidato, gettandosi dal balcone. L'uomo, insegnante di religione precario, l'ha accoltellata sabato mattina sotto gli occhi dei figli di 2 e 5 anni, che si trovava in un'altra stanza e che, sentite le urla della mamma, sono usciti per chiedere aiuto ai vicini di casa. La tragedia è avvenuta nel Parco dei Fiori, in via archeologia, al civico 54. Prisco era separato da alcuni mesi dalla moglie Paola. Dopo il folle gesto ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi e infine si è lanciato dal balcone di casa, al quarto piano, morendo sul colpo per l'impatto sull'asfalto. La donna è stata ricoverata all'ospedale Mosca Littili di Aversa e sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici hanno impiegato due ore per suturarle tutte le ferite, al volto, all'addome, al torace e alle gambe. Non hanno sciolto la prognosi ma la considerano fuori pericolo, anche se seguono con apprezzione due ferite ai polmoni. La stessa Guglielmi è riuscita dopo l'intervento a parlare con i carabinieri, raccontando di essere stata vittima già in passato di aggressioni da parte del marito. Pugni, schiaffi che la donna aveva preferito non denunciare, ma che avevano contribuito fortemente alla scelta della separazione. L'uomo era stato costretto ad accettare supplenze in giro per l'Italia, l'ultima conclusa una settimana fa in Emilia Romagna. Una difficile condizione lavorativa, forse non estranea allo stress, che aveva minato negli ultimi tempi il rapporto tra i due. Con la separazione e la lontananza forzata, comunque, Paola sperava che le violenze da parte del marito fossero ormai chiuse. E invece, sabato, quando l'uomo si era recato a casa per incontrare due bimbi, il raptus lo ha travolto. Trascorse da poco le dieci, tra marito e moglie, scoppia l'ennesima lite a porte chiuse, per non spaventare i figli rimasti in una stanza vicini. Lui la colpisce ripetutamente, intanto il piccolo di cinque anni bussa alla porta dei vicini di casa, che chiamano i carabinieri. Ma è già troppo tardi. Prisco vede la moglie sul pavimento, in un lango di sangue probabilmente, convinto di averla uccisa. Prova a tagliarsi dunque le vene, poi esce sul balcone e si lancia nel vuoto. La moglie raggiunge i bimbi nella cameretta e lei a dirgli di chiedere aiuto. Sono i vicini a chiamare prima il 118 e poi i carabinieri. I bambini hanno visto solo la madre ferita e poi trasportata in ospedale e non sanno ancora che il papà è morto. Il colpo di Paolo Prisco, intanto, è stato trasportato presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'autopsia. Solo dopo verrà fissata la data dei funerali. Via Toredo trasformata in un vero e proprio supermarket del falso. Un Suc da decine e decine di ambulanti che hanno occupato quasi ogni metro del marciapiedi. A partire dalla metà mattinata di ieri, per tutta la giornata, la principale strada del commercio cittadino, in totale assenza di forze dell'ordine, è stata invasa da banchetti, carrettini e dai classici lezzuoli bianchi stesi a terra con vari genere di prodotti contraffatti. Su tutti le borse griffate e gli occhiali da sole, ma sono in vendita anche i cd contraffatti, cinture in pelle, le pezze cosiddette offerte da ambulanti cinesi. Su carrettini mobili da Largo Santo Spirito a Piazza Trieste e Trento, gli ambulanti hanno praticamente reso difficile in alcuni tratti anche il passaggio ad esempio Pedoni. Parliamo di lavoro, una trentina di disoccupati ex corsisti aderenti al progetto BROS sta occupando da questa mattina il castello Baronale di Acerra per protestare contro la mancanza di prospettive occupazionali e chiedere un tavolo interistituzionale. I manifestanti hanno chiesto ai lavoratori impiegati nel castello Baronale, nelle sedi distaccate del comune della segreteria di una scuola del territorio di lasciare i propri uffici e si sono barricati nella struttura del castello, a sede anche il famoso museo di Pulcinella. Dall'inchiesta sulle consulenze sospette spuntano delle telefonate del vicesindaco Tommaso Sodano nelle quali annunciava la cacciata per così dire di una staffista che era stata anche la compagna dell'ex assessore al bilancio Riccardo Re Alfonso. Vediamo. Non c'è reato, almeno i magistrati non lo ravvisano, ma sono chiacchiere che infangano, colpiscono e che rimarranno indelebili. Le parole le pronuncia al telefono il vicesindaco Tommaso Sodano. Sono i primi tempi bui dell'amministrazione dei magistris. È la fase delle prime cacciate eccellenti, quando il tornello all'uscio di Palazzo San Giacomo aveva già cominciato a girare vorticosamente. Il primo a cadere fu l'assessore in cima alla lista dei desideri del De Magistris candidato. Tempi di rivoluzione arancione. Il nome sacrificato per le prime incompatibilità sulla gestione dei conti del comune di Napoli fu l'assessore al bilancio Riccardo Re Alfonso. Reduce di un precedente strappo quando al comune sedeva Rosa Russo Iervolino. Caduto Re Alfonso, bisognava far cadere un po' di gente a lui vicina. A cominciare dalla compagna dell'uomo dei conti, la biologa Chiara Zanichelli, con un incarico di staffista. La Zanichelli, guarda caso, fu estromessa nel luglio del 2012, poco dopo l'uscita di scena di Re Alfonso. Una cacciata preannunciata da Sodano con queste parole. Mo facciamo l'operazione madre con il suo uomo e poi facciamo tutto a catena. Chiacchiere immortalate in una telefonata intercettata e agli atti dell'inchiesta che vede il vice sindaco di Napoli indagato per il progetto ambientale affidato a una docente dell'Università di Bergamo, tra l'altro sua amica. Si tratta di Maria Cristina Roscia, dirigente di quel dipartimento a cui il progetto è stato poi attribuito e per questo indagata assieme a Sodano e al dirigente comunale Giuseppe Pulli. E con la Roscia che Sodano discute al telefono in quelle settimane della questione operazione madre. La professoressa Roscia gli dice che non può tenersi una persona che non fa le cose e lo danneggia e il vice sindaco, si legge nella trascrizione di un altro colloquio, spiega l'allontanamento così. Indirettamente gli ho detto, riferendosi alla staffista e a Re Alfonso, il tuo amichetto mi attacca dicendo che faccio clientele, poi mi piglio una sua donna. Mentre i legali di Sodano la spiegano così. La staffista fu allontanata perché aveva assunto comportamenti incompatibili con il suo ruolo. Il prefetto di Caserta, Carmela Pagano, ha comunicato al presidente del Consiglio Comunale di Sant'Arpino e dal presidente del Consiglio Provinciale di Caserta il provvedimento dichiarativo dell'intervenuta causa di sospensione di diritto di Eugenio Di Santo, sindaco di Sant'Arpino e consigliere provinciale da entrambe le cariche elettive. Il provvedimento è conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dalla GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Di Santo, accusato, lo ricordiamo, di aver preteso un prezioso bracciale di diamanti da un imprenditore del settore della rifezione scolastica del comune casertano. Un albanese di 28 anni è stato arrestato dalla polizia che l'ha portato in ospedale dopo averlo trovato ferito e privo di sensi in via Santella di Santa Maria Capoavetere dai controlli eseguiti dai poliziotti del locale commissariato, emerso poi che è destinatario di un ordine di carcerazione emesso a Bolzano. I medici dell'ospedale lo hanno giudicato in gravi condizioni e ne hanno disposto subito il ricovero. È attualmente intubato. Non regge al flusso di pendolari per la gran parte turisti il piano trasporti predisposto per il Natale. Vediamo. Un piano trasporti per le festività natalizie è quanto l'azienda napoletana Mobilità ha previsto d'intesa con il comune di Napoli, anche se non tutto sta andando secondo le previsioni. Malgrado l'aumento delle corse della metropolitana negli ultimi giorni resta l'attesa degli utenti sulle banchine, dato il flusso di passeggeri talmente elevato da creare comunque disagi. I nuovi orari riguardano la vigilia di Natale, il 25. La metromartedì farà l'ultima corsa da Piscinola alle 19. Il 25 invece il servizio sarà sospeso a partire dalle 12.20 per riprendere con la corsa delle 16.39. Limitazioni si prevedono anche sul fronte degli autobus. Per rientrare a casa occorre tenere ben presente che l'ultima corsa parte alle 8 di sera. A Natale invece i mezzi ci saranno, ma anche in questo caso per il pranzo resteranno fermi dalle 13.30 alle 16.30. Stesso discorso per tutte le funicolari. Martedì e mercoledì le seconde uscite di Salvatore Rosa, Rione Alto e Monte Donzelli saranno chiuse al pubblico. Continua intanto la circolazione a targhe alterne. La città anche ieri è andata letteralmente in tilt, malgrado il provvedimento. Oggi si prosegue, dovranno rimanere ferme le targhe dispare. Poi l'amministrazione prenderà delle decisioni anche se appare scontato che a Natale ci sarà una tregua. Serrati i controlli da parte della Polizia Municipale, secondo gli ultimi dati, sono stati fermati 416 veicoli e di questi ben 83 non avrebbero potuto circolare. La cocaina nei pacchi Dono Natalizi l'hanno scoperta dei carabinieri di Mondragone, spezionando numerosi pacchi inviati tramite Corriere Espresso dalle province di Napoli e Caserta. L'idea era venuta a due originari della Sardegna, arrivati in campagna due giorni fa proprio per acquistare la droga che poi avevano nascosto in un pacco inviato da una casella postale presso l'isola di Carloforte. Entrambi sono stati arrestati, mentre la cocaina, oltre mezzo chilo, per un valore sul mercato di 150 mila euro, è stata sequestrata. Custodiva nel deposito del suo supermercato, oltre 4 mila fuochi d'artificio illegali e 27 chilogrammi di polvere pirica attiva che sono stati scoperti dai finanzieri di Benevento a Basilice, nel Sannio. Il materiale pirotecnico, conservato senza alcuna precauzione in misura di sicurezza, estremamente pericoloso, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza che ha denunciato il titolare dell'attività commerciale, un uomo di 40 anni del posto. Ha incassato 131 mila euro l'asta di beneficenza promossa come ogni anno dal cardinale Crescenzio Sepe. 131 mila euro. È quanto ha incassato l'asta di beneficenza promossa dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe e destinata a finanziare un progetto all'ospedale pediatrico Santo Bono, per il telecontrollo a distanza di bambini in coma oppure a malati cronici. 35 mila euro sono stati raccolti dai comici della trasmissione Made in Sud. In totale sono stati battuti 21 pezzi, il più caro un quadro donato dal Papa del valore di 10 mila euro. I quattro acquirenti però hanno deciso di lasciarlo a base d'asta per il prossimo anno. Venduto per 5.500 euro invece il poncio di Papa Bergoglio e per 8.000 euro le penne offerte dal presidente del Consiglio Enrico Letta. Il progetto di monitoraggio a distanza del Santo Bono permetterà ad ogni famiglia di disporre di un tablet con il quale potrà essere in contatto permanente con un medico. Numerose le telefonate giunte nei giorni precedenti alla redazione del giornale diocesiano Nuova Stagione per comprare i biglietti, complice anche il concerto di Saldavinci che si è tenuto a seguire dopo l'asta. A presentare la serata è stata Veronica Maia, mentre come battitore d'eccezione ci sono stati Pietro Pignatelli assieme a Patrizio Rispo e Miriam Condurro, ancora Tony Figo e i due per duo di Made in Sud. La trasmissione comica, il cui ricavato delle puntate andate in onda in questi mesi, circa 40.000 euro, andrà proprio a favore dell'iniziativa di solidarietà del Cardinale Sepe. Belli e preziosi anche i doni del Presidente della Repubblica, uno specchio, un servizio di bicchieri, un vaso decorato e un tappeto. Dal Presidente del Consiglio è giunto appunto il trist di penne all'insegna del tricolore, una rossa, una bianca e una blu. Per le istituzioni locali battuta una scultura di Dalisi donata dal sindaco, un'acqua tinta offerta dal Governatore Caldoro e una scultura della provincia di Napoli. Preziosi anche i doni messi a disposizione dal Cardinale, una coppia di gemelli, un orologio, una croce. Ancora di rilevo una scultura di Lello Esposito, donata dalla Camera di Commercio di Napoli, un presepe realizzato dai detenuti di Poggio Reale, una natività offerta dall'imprenditore Naldi e un quadro offerto dal professore Sergio Sciarelli. Da privati donati anche un bracciale e un prezioso anello con brillante. All'asta di beneficenza svoltasi a Napoli hanno partecipato numerose autorità. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, Stefano Caldoro, e in rappresentanza del Sindaco Luigi De Magistris, c'era l'assessore Alessandra Clemente. Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano stamattina l'Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, che gli ha presentato il presepe offerto in Piazza San Pietro, accompagnato dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Stefano Caldoro, e da una delegazione della Curia Arcivescovile. Il presepe verrà inaugurato domani pomeriggio. La reggia di Caserta resterà aperta nei giorni 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio. Lo comunica la sovrintendenza dei beni culturali di Caserta e Benevento. La decisione è giunta dopo un accordo siglato con le organizzazioni sindacali che nei giorni scorsi avevano sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto che stabilisse tornazioni ed eventuali retribuzioni aggiuntive per i dipendenti che mercoledì scorso avevano anche svolto un'assemblea. Il disagio di certi quartieri di Napoli passa anche per il cattivo stato di manutenzione di siti e palazzi. In questa direzione il progetto dell'Ordine degli Psicologi della Campania. L'ambiente in cui si vive ha un peso specifico sull'identità dei cittadini, sul loro comportamento e di conseguenza sul loro benessere psicofisico. Del rapporto che intercorre tra la psiche e il contesto in cui si vive se ne è discusso durante il convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania e degli architetti partenopei negli spazi dell'anificio 25 del rione di Porta Capuana in pieno centro antico di Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi. Una location scelta non a caso per mettere in evidenza il legame tra una situazione di degrado e il conseguente disagio psicologico, come spiega il presidente degli psicologi della Campania, Raffaele Felaco. Riqualificare un'area non è sufficiente fare gli intonaci ai palazzi e renderli sicuro, ma è riqualificare la cultura di quel territorio e quindi cambiare il comportamento di quelle persone. Se noi parliamo di degrado, il degrado non è solamente lo scrostamento delle pareti, il degrado è tutto il contesto comportamentale umano che c'è intorno. Qui se non si cambiano i comportamenti non si cambia il degrado. Per il presidente degli architetti di Napoli, Salvatore Visone, la riqualificazione del rione di Porta Capuana deve diventare un progetto pilota per quanto riguarda il recupero del centro antico, un format di successo da cui partire e da applicare anche ad altri quartieri della città. Questa secondo me è la porta d'ingresso al centro antico che attualmente avviene da Piazza del Gesù, ma che la sua vocazione proprio naturale, specialmente in considerazione dell'apertura della stazione di Piazza Caribati, potrebbe avvenire proprio da questa zona, da Porta Capuana, da Castel Capuano e quindi fare un itinerario al contrario di quello che avviene attualmente. È stata presentata nell'auditorium comunale di Ariano Irpino la seconda edizione del Ariano International Film Festival che animerà per quattro giorni dal 31 luglio al 3 agosto del 2014 i comuni irpini di Ariano Irpino, Flumeri e Savignano. Ripartono le attività del nuovo teatro San Carluccio di Napoli con i virtuosi di San Martino che si esibiranno in Capitoni coraggiosi. Natale al teatro, è questa la sfida del nuovo teatro San Carluccio di Napoli che il 25 dicembre presenta Capitoni coraggiosi. La comicità irridente e orticante dei virtuosi di San Martino in un concerto spettacolo, una galleria di personaggi tutti da ridere che come capitoni nella sporta si mostrano coraggiosamente andando ignare incontro al loro destino natalizio, un susseguirsi di voci, situazioni, musiche e canzoni esilaranti in nome del grande cabaret del teatro e della musica come spiega l'attore Federico Odling. Con questo spettacolo Capitoni coraggiosi che è un nostro contenitore dove presentiamo il meglio dei virtuosi San Martino, il meglio per noi e si spera anche per il pubblico. Facciamo un concerto molto natalizio, molto comico, però dedicato appunto a questo coraggiosi e sta a sottolineare una sorta di intenzione verso il recupero di questo spazio e la nuova linfa vitale che cerchiamo di dare. Il Cantellone vero e proprio parte dal 18 gennaio e presenta questa rassegna principalmente comico d'autore dove abbiamo privilegiato una serie di spettacoli recuperati da amici e diciamo volenterosi che si vogliono aggiungere a questa, a codare, a questa iniziativa. Il rilancio del San Carluccio parte anche dalla creazione di nuove attività. Biagio Izzo, direttore artistico dei laboratori teatrali, invita il pubblico a innamorarsi di nuovo del teatro, dimensione più carnale rispetto al cinema e alla tv. Io perciò amo il teatro, io faccio questo mestiere ma dico il mio vero mestiere è il teatro, poi c'è il cinema, la televisione, ma è più freddo e più... invece il teatro è carnale e noi siamo molto carnali, noi napoletani. E ora la consueta ampia pagina del lunedì dedicata allo sport, in studio il nostro Paolo del Genio, restate con noi. Andiamo a vedere la classifica, diciamo prima che però Napoli non ha giocato bene, sì, però sfortuna sia per la decisione arbitrale che è abbastanza esagerata perché quel gol molto spesso non si annulla diciamo. E poi per l'episodio finale quel tiro di Mertens con una storia che se la tocca fa autogolli, invece la palla gli passa un millimetro e finisce fuori. Andiamo a vedere la classifica che quando mancano due giornate alla fine del giorno è andata, dice che la Juve ormai è andata troppo avanti rispetto al Napoli, più 10, la Roma è a più 5, il Napoli deve ospitare entrambe, c'è Juventus-Roma la ripresa sulla Roma, sicuramente si può fare la corsa per il secondo posto che significa qualificazione diretta in Champions e bisogna guardarsi per il discorso Champions, anche però dal ritorno di Fiorentina e Inter che sono a 33, meno 5 e a meno 3 e a 31, meno 5 dal Napoli. Quindi direi che Roma-Napoli, Fiorentina e Inter sono in lotta per la Champions. In questo momento a voler fotografare una va diretta, una va attraverso i preliminari in Champions e le altre due vanno in Europa League. Questa è la proiezione più verosimile di quello che dovrà attendere il Napoli che chiaramente, possiamo tornare in studio, ricomincerà all'Epifania alle 12.30 al San Paolo con la Sampdoria, ma ricomincerà piena l'attività del Napoli, il 29 a Castelvolturno con gli allenamenti, ma in questi giorni, nei primi giorni di gennaio e per tutto gennaio, soprattutto con il mercato, con Antonelli che sembra ormai un giocatore del Napoli, per Hager si punta molto forte, si cerca di prendere anche un centrocampista, vediamo cosa succede, sarà un mercato dove il Napoli proverà davvero a rinforzarsi molto e ovviamente poi da gennaio Benitez potrà contare di nuovo sia su Zuniga che su Amsi, che sono due giocatori fondamentali per il Napoli. Partiamo con le interviste da Cagliari, ascoltando, chiedo alla regia prima Benitez, Benitez. All'inizio, dopo l'escaldamento, abbiamo parlato di questo, del campo che era brutto, che non dobbiamo rischiare nessuna palla in difesa, l'abbiamo fatto, questo non si può controllare al cento per cento, credo che la reazione della squadra sia stata positiva, non si può dire di più. La seconda, scusami, era? Il gol, io dico che oggi o adesso non cambiamo niente, non possiamo cambiare niente, dobbiamo pensare che poteva essere o no, che poteva essere legale o irregolare. Lo che sì è chiaro è che riguardo a linea non puoi vedere nella sua posizione se un giocatore davanti al portiere ha un'influenza o no, si dice influenza, no? Credo che, se mi dicono che l'arbitro era dietro, del portiere o del giocatore che calcia la fa, bene, il quinto, sesto, settimo arbitro, bene, ma il guardaline non puoi vedere. Invece è stato lui a fare la segnalazione? Non lo so, perché fuori gioco può essere fuori gioco, ma non è fuori gioco che fa la differenza, è il portiere nella traiettoria o il giocatore nella traiettoria o no. Mister, scusa, mi sono arrivato adesso, non so se hai già risposto a questa domanda, secondo te la squadra deve crescere che quando ci sono quei 15-20 minuti che comunque vanno lasciati a qualsiasi avversario in Italia, tutte le squadre producono qualcosa, bisogna cercare di evitare di prendere gol, piuttosto che pensare al fatto che non è arrivato il secondo e il terzo, ma ci può stare, però 15 minuti di sofferenza si prende sempre gol. Credo che oggi, ho detto prima, il campo, l'imbalzo della pala non ha giocato niente, dopo che abbiamo fatto sufficiente per fare un altro, non due o tre, ma alla fine devo dire che loro hanno fatto il suo lavoro difensivo e non possiamo cambiare il risultato. Non lo so, devo parlare con Riccardo Ricondi, di questo, di un'idea che i giocatori stiamo puntando a questo punto. Ma a lei piace il range a vengola? Mi piace vedere il mio giocatore giocare una partita buona e vincere le partite. Oggi sono un po' arrabbiato perché abbiamo parigiato. Non ho fatto una lezione per essere professore, ho fatto una lezione perché loro dovevano vedere due allenamenti, era un giorno libero, abbiamo deciso che era meglio per tutti fare questo intercambio di idee, questo che abbiamo fatto, non è dire che io dovevo fare la lezione. Parlando della mia esperienza, credo che era sufficiente. Lui come allenatore non ho visto niente, l'ho visto prima, sappiamo che era una squadra tosta, difficile, che lavorava bene e oggi l'abbiamo visto, l'abbiamo sofferto il campo che non era facile trovare gli spazi. Io credo che abbiamo fatto partite buone con le squadre grandi, con le squadre un po' più piccole per dire da una maniera, ma oggi abbiamo trovato una squadra che lavorava bene nella fase difensiva e che la ripartenza poteva essere piccolosa. Per questo sono soddisfatto con la fase difensiva della squadra, ma credo che possiamo fare ancora meglio nella fase difensiva. Non è una questione di una squadra più forte, una squadra più debole, è una questione che qualche partita va meglio e le squadre che lavorano soprattutto nella fase difensiva è più difficile trovare spazio. Eccoci qui, le parole di Benitez, condivido pienamente il discorso sul gol annullato perché effettivamente lì si può anche annullare, ma deve essere o l'arbitro o l'arbitro dietro la porta che notano che il giocatore sulla traiettoria disturba il guardialine alla prospettiva solo per valutare il fuorigioco, ma in quel caso non avendo ricevuto la palla il giocatore del Napoli che ha determinato l'annullamento del gol, il gol non lo può annullare il guardialine. Quindi c'è proprio addirittura la possibilità che il guardialine segnali, ma che poi l'arbitro dica no, ho visto io, il giocatore non disturbava, non l'ha toccata, quindi il guardialine non la dovrebbe alzare, ma se per errore la alza, l'arbitro ha il potere di convalidare quel gol. Lasciamo perdere, si è lamentato giustamente di questo Gemayli che ascoltiamo negli spogliatori del Sant'Elia a fine partita. Primo tempo inizialmente qualche difficoltà, poi buona la seconda parte, nel secondo tempo era difficile costruire palle e gol, Blerim, perché loro erano molto chiusi. Due occasioni sono arrivate, una l'arbitro, una è uscita di poco e non è andata come doveva andare. Infatti c'era un pullman davanti alla porta quasi, si può dire così, era difficile sicuramente nel secondo tempo, loro erano contenti col pari, credo, noi no, però abbiamo creato anche nel secondo tempo, ci è mancato anche un po' l'ultimo passaggio, è un peccato perdere due punti così, però credo che alla fine non sono questi punti che abbiamo lasciato e indietro, ma sono i punti in casa contro il Parma, Sassuolo o anche Udinese, questi sono i punti che ci mancano. Bene, a gennaio testa bassa perché il campionato bisogna cercare di recuperare, quantomeno per il secondo posto. Per quanto riguarda invece Coppa Italia e Europa League bisogna puntare al massimo, sono questi gli obiettivi a questo punto per il Napa? Ma sicuramente adesso è il secondo posto che sta davanti a noi e poi l'Europa League vogliamo onorarla perché io personalmente la voglio anche vincere, è possibile perché le squadre che incontriamo non sono più il Borussia Dortmund o l'Arsenal, saranno le squadre un po' più debole ma non da sottovalutare e anche in Coppa Italia possiamo fare una impresa. Per quanto ti riguarda, hai trovato i gol l'anno scorso nella prima parte della scorsa stagione ne hai trovati tanti, ora in un periodo non giocavi, ora invece Benitez ti fa giocare di più, ti senti tranquillo, siete davvero tutti alla pari, lì sei un titolare praticamente anche se per un periodo sei stato in panchina. Io ormai ogni anno inizio con un po' di difficoltà e questo mi dà un po' fastidio, però alla fine sono uscito molto bene, anche le ultime 3-4 partite ho fatto molto molto bene e per me importa però la squadra che faccia bene perché se la squadra fa bene ognuno la valutazione si si alza. Questo è tutto per il TG, TG che torna alle 19.30, poi subito dopo la seconda edizione del TG su Canale 8 alle 20 in diretta a tutto campo, quindi ci troviamo più tardi.